Attivismo Avete assistito a questo genere di proteste nell'ultimo periodo? Dite la verità quanto vi hanno fatto incazzare Sia chiaro, non sono contro le proteste anzi è giusto farsi valere per le giuste cause ma sono anche del parere che le giuste cause vanno combattute con le persone giuste e senza arrecare danno a chi non ti ha fatto nulla Ma chi sono i nuovi attivisti? Prendiamo ad esempio questi si professano come una campagna italiana di disobbedienza civile non violenta almeno questo è quello che dicono sul loro sito con tanto di banner che esorta ad unirsi alla causa Ma è davvero così? Perché non so voi, ma pensandoci un attimo anche bloccare per diverse ore il grande raccordo anulare una violenza magari non fisica, ma che crea problemi a diversi cittadini che, diciamocelo chiaramente Non c'entrano una mazza con le istituzioni Ma cosa vogliono davvero? Girando un po' su internet sono approdato su uno dei loro siti e fondamentalmente chiedono due cose Uno, interrompere la riapertura delle centrali a carbone e impedire nuove trivellazioni per l'estrazione di gas naturale E due, incrementare l'energia solare ed eolica e creare migliaia di nuovi posti di lavoro nell'energia rinnovabile Per carità, sono scopi nobili che approvo in pieno Ma tornando al discorso di prima mi chiedo Perché protestare sul grande raccordo anulare bloccando e danneggiando letteralmente centinaia di cittadini che vanno al lavoro che hanno un'urgenza personale come che so, andare in ospedale quando lo scopo è farsi sentire dalle istituzioni Ok che l'obiettivo di una manifestazione o uno sciopero è creare un disagio Ma così a chi lo stai creando? Andate in scena Non rompete il cazzo a chi deve lavorare Dovrei chiederlo a loro E così ho fatto O comunque ho provato a fare Grazie ad un contatto sono riuscito ad avere il numero di telefono dell'ufficio stampa di uno di questi gruppi che dopo due chiacchiere mi hanno svelato orario, data e luogo della prossima manifestazione Mi sento un po' un inviato delle iene quando faccio queste cose Così... Così niente perché ho scoperto che illegale senza tesserino da giornalista avrei rischiato il carcere Cioè quindi se vado a una manifestazione con questi e per fargli semplicemente due domande del motivo sul motivo per cui stanno facendo questa cosa io non posso non posso farlo perché se la polizia mi vede mi arresta Cioè quindi è illegale questa cosa Cioè questi fanno manifestazioni sempre e non vengono arrestati e io che sto lì per raccontare la cosa rischio l'arresto No non ce l'ho il tesserino da giornalista Che palle Ma lavorando in una redazione ho utilizzato un po' di materiale che è girato da alcuni giornalisti che hanno il tesserino così ho potuto continuare a raccontare questa storia Ma non era abbastanza Volevo chiedere la cosa ai diretti interessati Così ho chiesto ad uno di loro di rispondere a qualche domanda per capire meglio la loro missione Il vostro scopo è ovviamente come hai già detto anche tu farsi sentire dalle istituzioni Allora perché bloccare e in un certo senso anche danneggiare i cittadini? Due risposte Una è etica e l'altra si parla di efficacia Una risposta etica è molto semplice Non credo che stiamo danneggiando veramente nessuno e so che sembrerà paradossale ma se c'è un teatro che sta andando a fuoco ti stanno andando a fuoco i piedi e la persona che ti ha fatto pagare il biglietto preferisce che te continui a guardare lo spettacolo anche al costo di bruciarti vivo e arriva qualcuno che interrompe lo spettacolo grida e ti trascina fuori dal teatro magari lo dirai quella persona ma poi un giorno dirai molte grazie non sti facciamo un danno si tratta di 15 minuti di ritardo 20 minuti di ritardo a lavoro siamo seri abbiamo perso in alcune zone quasi il 50% dell'agricoltura quest'anno questi sono i danni questi sono i danni alle tasche degli italiani il costo della frutta il costo della verdura è aumentato tantissimo il costo delle bollette è aumentato del 55% negli ultimissimi mesi questi sono i danni che sta provocando il governo 15-20 minuti di ritardo sono per dirti ehi renditi conto che questo non è un cataclismo connetti i puntini se stai pagando la frutta e la verdura così tanto non è un caso e non stai venendo protetto allora io penso che tu devi leggere le dinamiche in due maniere le persone alla prima volta gli stai sul cazzo e basta e non capiscono alla seconda volta gli stai sul cazzo e cominciano a capire che c'è qualcosa di importante la terza volta gli stai sul cazzo e cominciano a capire che c'è ragione e la terza volta forse gli stai ancora sul cazzo ma considereranno di partecipare magari non ai dei blocchi in autostrada ma cominceranno a considerare di partecipare ai Fridays for Future o ad altri movimenti e la risposta state sbagliando il luogo stai a doversi andare in Parlamento è un'ottima risposta perché vuol dire che quella persona che ti dice questo anche se nell'80% dei casi saranno persone che non faranno niente ok? perché così funziona l'opinione pubblica sta cominciando a connettere che il problema ambientale è colpa del governo ok? tu glielo stai facendo ammettere capisci? in questa maniera nonostante quello che professano forse non è la giusta strada per arrivare alle istituzioni anzi forse è la strada per farsi odiare e allontanare le persone dal tema sono curioso di sapere la vostra nei commenti quindi scrivete pure generalmente nei video tendo a non sbilanciarmi ma dal mio punto di vista ognuno può essere attivista in modo diverso e questa non è la strada giusta sicuramente tutti i paesi del mondo compreso il nostro devono fare qualcosa per combattere in modo concreto il cambiamento climatico e sono certo che la nostra generazione sarà quella che troverà una soluzione a questo problema perché non saremo i protagonisti della fine del nostro pianeta non permetteremo di essere l'ennesima generazione che fallisce e soprattutto non saremo l'ultima generazione di attivisti